ragazzi a un certo punto ho dovuto prendere uno xanax un po di lexodan mamma un'ansia mi è venuta a vedere sta partita uno schifo di partita ragazzi l'unica cosa di buono per gli amici gioventini sono i tre punti però male 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 due occasioni in croce uno al primo tempo e il gol nel secondo tempo e nulla di più ma è da una parte e dall'altra non che lecce abbia fatto chissà quale partita è stata proprio una partitaccia il lecce a tutte le scusanti del caso l'unica squadra non aver ancora perso e poi sicuramente lecce non deve vincere il campionato perciò ci sta che a torino tiene un po il freno a mano tirato contro la juventus però insomma ragazzi ma e poi la chicca finale è l'arbitro che ne ha combinata una di a dir poco imbarazzante veramente non ha influito niente nel risultato però per per mettere la ciliegina sulla torta l'arbitro ci ha messo del suo va bene ragazzi facciamoci due chiacchiere insieme giusto per passare una decina di minuti e inventerò qualcosa da dire perché la partita veramente poca roba poca dai ragazzi innanzitutto buonasera e ben ritrovati qua sul canale in questo nuovo video dal vostro amico nike nella casa del pane e ballon vi invito subito ad iscrivervi al canale ragazzi ancora mi raccomando se non lo avete fatto iscrivetevi non costa nulla attivate la campanella così non vi perdete mai nessun mio contenuto e soprattutto ragazzi scrivetemi la vostra nei commenti scrivetemi se voi vi siete divertiti se vi siete annoiati io ho preso lo xanax ho preso una mezza pastiglia a un certo punto avevo l'attacchi cardiaca a vedere questa partita incredibile incredibile ragazzi dai seguitemi anche su instagram venitemi a trovare sul gruppo telegram che ho qualche cosina iniziate a venire e iscrivetevi al gruppo poi ho un po di roba da da proporvi mi raccomando fate tutte queste cose e insomma parliamo sto guardando lo scout adesso a parte 50 per cento possesso palla cinque tiri in porta della juve ma quando dove sono stati cinque tiri in porta cinque tiri fuori tre no vabbè quante tredici occasioni io veramente non le ho viste neanche nelle ultime tre partite della juve tredici occasioni della juve in questa tanto meno vabbè lo score se calcolano anche quando tu tiri e prendi il terzo anello è un altro disco a parte che non c'è neanche il terzo anello all'ello kitty stadio vabbè detto questo ragazzi ve l'ho detto adesso è un po è un video a cazzeggio perché veramente da parlare della partita c'è proprio poco poco se non quello che è stata veramente una partita noiosa imbarazzante una juventus veramente che non riesce a non riesce a trovare gioco non si qualche qualche lampo di chiesa ma ultimamente chiesa già lui di suo come calciatore molto forte bravo tutto quello che volete però ragazzi è un giocatore esplosivo c'è prende la palla ti punta cerca di fare un po di casino sinceramente a me non è che mi abbia mai fatto impazzire chiesa però messo in un contesto dove una squadra in una squadra forte può dare il suo contributo magari da una parte c'è chiesa da un'altra c'è un altro giocatore in avanti c'è il gioco insomma e lui da solo chiesa veramente non lo vedo come un giocatore che può vincere le partite da solo sinceramente non perciò a parte qualche lampo appunto di chiesa ma fine a se stesso dove poi oltretutto nel primo tempo si mangia anche un gol davanti alla porta basta il lecce non ve lo sto neanche a raccontare ha fatto meno della juve perciò però ripeto come ho detto prima il lecce non è non viene a torino per vincere la partita cioè ragazzi il lecce è una squadra che ha già fatto tantissimo in questo campionato ha iniziato alla grande non aveva e ricordiamo non aveva ancora perso insieme all'inter era l'unica a proposito vuoi vedere che le uniche due che non avevano ancora perso magari i cuginetti a sto giro e che lo sa e magari ha perso il lecce i cuginetti vanno vanno dietro va bene si fa per scherzare appunto il lecce non aveva ancora perso perciò insomma non è che poteva venire a a torino a fare la prestazione certo non non è venuto non è andata a torino per perdere la partita ha fatto la sua partita onesta magari cercato di strappare un pareggio vedeva come si poi c'è da dire ragazzi che è la testa è un'infrasettimanale ci sarà la partita domenica il lecce e squadre come lecce non hanno la rosa per poter affrontare tre partite in sette giorni così insomma perciò quando poi fai una sorta di turnover non è semplice se già i titolari sono quelli che si dovrebbero salvare non è figuriamoci panchinari perciò lecce c'ha la scusante per aver fatto una partita del genere chi non ce l'ha è la juventus che arriva da dei risultati imbarazzanti arriva da una sconfitta imbarazzante giochi in casa davanti al tuo pubblico e mi aspetto qualcosa di più infatti alla fine del primo tempo fischi a go go allo stadium perché anche il pubblico molto probabilmente ne avrà anche le palle piene di vedere certe certe partite così imbarazzante arriviamo all'arbitro ragazzi non è che l'arbitro abbia influito nel gioco ma si può fare quell'espulsione lì all'ultima gli ultimi secondi di gara cioè il giocatore adesso quel giocatore cosa doveva fare non a me non mi è sembrato lo avesse simulato cioè stava giocando la palla si è buttato per cercare di prenderla mentre era in un contrasto di gioco non si è lamentato non ha detto niente l'arbitro è andato dritto con cartellino già io veramente cioè dopo una partita del genere vedere anche un'espulsione del genere veramente è stato qualcosa di incredibile è proprio scarsa gli arbitri italiani sono proprio scarsi veramente a volte ci vogliono 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 diventare protagonisti secondo me veramente a volte l'arbitro vuole proprio diventare protagonista a un certo punto l'arbitro siccome si era annoiato anche lui della partita ha detto beh sì mo la faccio io adesso una giocata alla zidane è espulso un giocatore non c'entrava niente cioè quello lì ha fatto la sua onestazione è caduto un contrasto già ma uno potrà anche cadere se ha un contrasto o se cade uno simula a me non mi è sembrato nessun tipo di simulazione adesso va bene tutto però se fosse successo a un calcio ci poi vedi domeniche tipo domenica scorsa appunto contro la jove berardi non viene espulso per un fallo del genere espulsione netta diretta qui espulso il giocatore è vero non è diretta l'espulsione è la seconda munizione ma in questo caso allora tu devi fare intervenire il var perché è una munizione che non esiste perché è vero che il var non deve intervenire per le ammunizioni però deve intervenire per le ammunizioni che comportano all'espulsione se un'ammunizione è la seconda e comporta un'espulsione e non è giusta e non è veritiera allora bisogna intervenire cosa vuol dire non si interviene sulle munizioni sulle munizioni semplici ma su una che compromette la gara della squadra adesso la partita era finita non ha compromesso nulla l'ho detto prima e non sto facendo polemiche proprio è proprio sta mania di protagonismo che un arbitro povere era lì dietro non ha visto assolutissimamente nulla perché ci aveva 762 giocatori davanti quando lui è scivolato dico io ma perché tu hai iniziato a correre con la mano nella tasca cioè lui è partito per ammunire quel giocatore a me sembra che a volte esagerano e comunque in questo caso io avrei avrei introdotto la possibilità di far intervenire il VAR perché comunque è un'ammunizione sì ma che comporta un'espulsione perciò ed è un'ammunizione inesistente detto questo l'ho detto anche perché è stato imbarazzante poi per coprire ancora qualche minutino perché la partita veramente è stata uscena uscena no ragazzi va bene l'unica cosa di buono per la Juventus sono i tre punti che insomma in questo momento sono oro colato perché insomma perdere o pareggiare anche anche stasera sarebbe stato comunque associato al non gioco una cosa molto negativa perciò insomma i punti poi alla fine nel calcio aiutano sempre un pochettino a resettare a a stemperare a far andare avanti ad aspettare che magari succede qualcosa perciò se non fossero arrivato anche i punti insomma sarebbe stato un pochettino un po più un po più critica la situazione perciò bene i punti per la Juve ma il resto veramente male 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 ragazzi fatemi sapere la vostra nei commenti vi abbraccio di cuore vi auguro una buona notte ci vediamo domani sperando di vedere un po più di spettacolo mi raccomando belli siete come dico sempre io bye bye